Nessun movimento in entrata, formalizzazione di alcune cessioni, questo in sintesi l'ultimo giorno di calciomercato del Pescara, che riesce proprio al fotofinish a snellire la rosa e ad avvicinarsi all'optimum di Zeman delle 25 unità. La principale operazione in uscita, piazzata dal presidente Sebastiani del DS Leone, è il trasferimento di Frank Canute all'Ascoli. La cessione impostata ieri è stata conclusa oggi con l'accordo trovato a Milano tra i dirigenti del Delfino e quelli del Picchio, con la formula del prestito secco fino a giugno. Il centrocampista senegalese questa mattina si è allenato col Pescara e in serata ha raggiunto Ascoli. Sempre in serata è stata prontata la cessione a titolo definitivo del terzino Andrea Rossi al Teramo, il cui contratto scade il prossimo giugno. Dopo la parentesi di Terni dello scorso anno, in questa stagione Rossi non ha mai giocato e sta smaltendo un infortunio all'anca. Non solo, Emanuele Lattelat era assente stamani al Poggio. Il giocatore stava già facendo ritorno a Bergamo, risolto in anticipo il prestito dall'Atalanta. L'esterno di origine ivoriana resterà alla corte di Gasperini per superare i malanni stagionali che l'hanno finora tormentato. Ransford Selassi, fogati i dubbi circa le sue condizioni, si lega alle Lecce nel girone C di Serie C. Il centrocampista ganese approde in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura eventuale rivendita. Si accasa anche l'attaccante Luca Forte che finisce in prestito al Monza nel girone A di Serie C. Ha risolto consensualmente il contratto il centrocampista croato Rvoje Milicevic. Non si muove stendardo per il quale resta in piedi la sola ipotesi rescissione. Ovviamente è possibile anche al di fuori della parentesi di mercato. Alla seduta mattutina di allenamento hanno preso parte gli ultimi innesti, il difensore laterale Riccardo Fiamozzi e il centravanti Cristian Bunino. Il primo arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa che diventa obbligo con la promozione in Serie A. Il secondo è un giocatore del Pescara a titolo definitivo con contratto fino al 2022 dalla Juventus. Al club bianconero va Leonardo Mancuso, anche per lui contratto fino al 2022 ma a permanenza in prestito a Pescara fino a giugno. Con Bunino sono quattro i centramamenti di disposizione di Zeeman. Ecco perché è rimasta aperta fino a questa sera l'ipotesi di cessione di Andrea Cocco alla Salernitana. Scenario che sembrava ancora più verosimile dopo la cessione dell'attaccante dei campani Rodriguez all'Empoli. Decisivo però il parere negativo del tecnico Colantuono, perplesso di fronte al lungo stop dello stesso Cocco a seguito del grave infortunio patito lo scorso anno al Cesena. Resta anche Cappelluzzo. Nulla di fatto anche sul fronte portieri. Il Pescara ci ha provato fino alla fine ma non è arrivato l'estremmo difensore Antonio Rosati del Perugia. Dunque Savelloni resta il dodicesimo di Fiorillo. Ore molto frenetiche in Serie C anche per il Teramo. Oltre all'acquisizione di Rossi, doppia operazione in porto con il Monopoli, squadra del girone C di Serie C. È fatta per il trasferimento ai pugliesi di Lorenzo Paolucci, ovviamente tramite il Pescara, che è titolare del cartellino del centrocampista. Fatto anche lo scambio di prestiti tra portieri. Levandoschi al Monopoli, Marino Bifulco, ex Chieti Angolano e Valle del Giovenco, che torna in Abruzzo con la maglia del Teramo. Salta l'altro scambio, quello rimasto in bilico per tutta la giornata, tra l'attaccante Giacomo Utulli, che era destinato alla Triestina, e il centrocampista Alberto Acquadro, che avrebbe fatto il percorso opposto. Va a buon fine la cessione di Riccardo Barbuti. L'ex lumezzane ha prima rifiutato la regina, poi al fotofinish ha accettato la proposta del Gavorrano, che già ieri corteggiava il centravanti, il quale dunque lascia Teramo con la formula del prestito. Con i mare in mani, formalizzato lo scambio con Riccardo Cretella, centrocampista classe 94, acquisito anche egli a titolo temporaneo. Grazie.